Brutta disavventura per un anziano di 79 anni, residente a Campo di Giove, che nel pomeriggio di ieri è caduto rovinosamente a terra dalla sua bici, finendo in ospedale. L'incidente si è verificato nel piccolo centro Peligno, intorno alle 12, quando l'uomo, non si sa se per un lieve malore o per una perdita di equilibrio, si è ritrovato a terra dolorante. Sono quindi scattari i soccorsi che hanno portato sul posto l'equipaggio del servizio 118. L'anziano ciclista è stato trasportato nel vicino ospedale di Sulmona, dove i medici del pronto soccorso li hanno diagnosticato un politrauma cranico, che deve essere tenuto sotto osservazione per il controllo e monitoraggio dei valori. Da qui ricovero nella stanza di osservazione breve del pronto soccorso, in attesa della collocazione in corsia. Dei primi accertamenti sembrerebbe che il ciclista avrebbe fatto tutto da solo.